Preoccupazione nei residenti soprattutto di Schiaponte per il sequestro avvenuto ieri del parcheggio della Siena. Lì che cosa accadrà? Qual è la situazione, Sindaco? Beh, intanto si tratta di un lavoro privato, come penso quasi tutti sapranno, non è un lavoro pubblico. Noi all'epoca demmo un grande slancio affinché si rilasciassero tutte le autorizzazioni per realizzare quell'opera perché crediamo che è un'opera ancorché privata ma di una grande valenza pubblica, soprattutto per il borgo di Schiaponte. Quando sarà ultimato certamente Schiaponte ne gioverà tantissimo e con essa tutte le attività culturali anche lì e produttive che ci sono. Ho letto dalla stampa di questo episodio negativo, spero che i proprietari ne usciranno fuori al più presto perché sembrano questioni più legate agli scarichi delle acque che non ai eventuali abusi perché su questo mi pare di aver letto si tratti. Sì, quindi credo che sono questioni che si potranno risolvere quanto prima e spero che sia così perché spero che non sia anche lì, non ci sia un rallentamento sul tabellino di marcia. Noi tutti, ma soprattutto il borgo di Schiaponte sta aspettando con grande interesse l'ultimazione di questi lavori. Il Comune di Schia, in base alle proprie possibilità, darà una mano ai privati per sbloccare la situazione? Se dovesse trattarsi di questioni burocratiche, autorizzazioni e quant'altro, se ne ricorrono i presupposti ovviamente noi daremo una corsia preferenziale perché appunto crediamo che sia un intervento che ha una valenza pubblica notevole, c'è un interesse veramente notevole dal punto di vista pubblico, quindi gioco forza saremo a disposizione ovviamente nella liceità degli atti che dovremmo eventualmente produrre.